C'è una cosa che deve sapere. Sono esperto di un tipo di sicurezza molto specifico. La sicurezza del subconscio. Stiamo parlando di sogno. Noi creiamo il mondo del sogno. Portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con i suoi segreti. Voi vi infiltrate e li rubate. Beh, non è strettamente legale. Si chiama Inception. Innesto. Lavoravamo insieme. Stavamo esplorando il concetto di un sogno dentro un sogno. Io non facevo che spingere, volevo andare sempre più in profondità, volevo andare oltre. Abbiamo creato, abbiamo costruito un mondo per noi. L'abbiamo fatto per anni. Ci siamo costruiti un mondo nostro. Per quanto siete rimasti lì? Qualcosa come 50 anni.